A Gabriele Conigliaro, vittima di una morte impossibile, in un giorno d'estate del 2021 è caduta a una delle porte di un campo di calcetto in un terreno sterrato. Aveva solo 12 anni. Secondo il pubblico ministero sarebbero emerse delle responsabilità per la mancata dirigenza e perizia. Il sindaco di Carini, Giovi Monteleone, 67 anni, e il suo vice, Salvatore Badalamenti, 61 anni, avrebbero dovuto rendersi conto che in quell'area c'erano dei pericoli incombenti. Il Comune avrebbe realizzato il campo in quel parco giochi, ma senza i necessari adempimenti tecnici che ne attestassero la sicurezza. Fu data l'autorizzazione ad una società sportiva per l'installazione di due porte da calcio, ma, secondo la Procura, gli amministratori non avrebbero mai controllato la corretta esecuzione della posa in opera. Al sindaco e al suo vice, in qualità di assessore ai lavori pubblici, viene adebitata anche la mancanza di controlli periodici di manutenzione. Secondo il PM, si sarebbe dovuta emettere un'ordinanza di divieto assoluto di fruizione di quell'area, perché non si cura. Il bambino avrebbe scavalcato il cancello e avrebbe iniziato a giocare, poi si sarebbe aggrappato alla porta che lo avrebbe travolto perché non ancorata al suolo. L'impatto del palo con la testa gli provocò una grave emorragia cerebrale e poi la morte. Nel rispetto della memoria di Gabriele, il bambino morto a Carini, si legge in una nota del Comune, nel rispetto delle conclusioni delle indagini della magistratura. Il sindaco, dopo aver preso visione degli atti, fornirà le informazioni utili per dimostrare che tutto quello che era di sua competenza e in suo potere fare è stato fatto.